Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly, questo è Diario di Viaggio on the road, edizione agosto 2015. Vlog veloci, senza sigla. Sto già facendo Voga 2015, non voglio riempirvi la domenica, così potete andare al mare, a passeggiare in montagna, a prendere il fresco sotto l'aria condizionata o fare quello che volete fare. Allora, voglio lanciare un argomento per questo mese di agosto, l'argomento è «VIVERE la città», è un argomento un po' particolare. Capitolo 1. Oggi parliamo di attività turistiche e folklore. Parentesi veloce, come sapete vivo a Siracusa. Siracusa in epoca romana è stata un po' un nucleo importante dell'impero romano, è stata una città di confine sul mare, è stata una città che ha una grande storia, e arrivati ai giorni nostri, nonostante il turismo sia vissuto con qualche piccolo, chiamiamolo pure «mal di testa» magari tipico dell'Italia che non riesce a far decollare il turismo come si dovrebbe, però Siracusa è piena di attività culturali che possono essere fatte, è piena di posti che possono essere visitati, c'è un intero quartiere che si chiama Neapolis, dal greco «Neapolis», nuova città, che tra altro nuova città che, detto nel ventunesimo secolo, che è la parte più antica della città, la parte dove ci sono il teatro greco, l'anfiteatro romano, l'Ara di Ierone, l'Orecchio di Dionisio, la Grotta dei Cordari, cioè tutto raggruppato lì alla nuova città. Non voglio sapere com'è la vecchia città, allora, direbbe qualcuno. Sicuramente ci sono tante attività culturali che possono essere fatte in questa città, ci sono state le feste Archimedee, anche se le più interessanti cose su Archimede, sugli Specchi Ustori, le hanno fatte i Mythbusters in California. Ma tralasciamo. Ma ci sono dei musei molto importanti, c'è il Museo Paolo Orsi che sì, lo so, guardato così sembra la fortezza delle scienze, probabilmente abbiamo sempre detto magari prima o poi si apre il santuario e viene fuori, non lo so, ma zinga, perché sembra quello, però è un museo molto importante, c'è tutta la storia di Siracusa nell'area greca, nell'area romana, tutti i ritrovamenti che sono stati fatti nella provincia e molte cose importanti, sicuramente. Quindi quello che è l'ambito turistico in questa città sicuramente il turista che viene non viene per vedere che c'è una sola cosa e poi se ne va via, c'è tantissimo da vedere. Il turismo più moderno sicuramente ha a che fare con le spiagge, i villaggi turistici che ci sono nella provincia, il splendido mare della Sicilia, il sole che mi sta cuocendo in questo momento in cui non posso accendere l'aria condizionata in macchina, e il folklore, che in Sicilia soprattutto, quando si parla di folklore, si parla, dopo la dominazione spagnola, delle feste dei santi che portano appresso tutta la processione, che portano appresso il mercato, che portano appresso tutta... tutto il popolo che va a vedere queste feste dei santi e che sicuramente basate anche sul principio vissuto dai cristiani ricordati di santificare le feste. E no, mi dispiace, io non vivo questo principio. Trovo molte feste di santi pittoresche, e comunque il comportamento tenuto in molti posti del sud Italia che danneggiano, secondo me, anche un po' quello che è il vivere alla fede, che sono stati fenomeni come l'inchino del Stato del Santo di fronte alla casa del presunto boss mafioso. Sono certamente cose che ben poco dovrebbero avere a che fare con il folklore, ma purtroppo c'è anche questo. Ad ogni modo, insomma, qui a Siracusa, nel nostro piccolo, ci sono delle attività che si possono fare per il turismo, ci sono delle attività che si possono fare per il folklore. Ci sono... c'è tanto da vedere, insomma, quando uno in estate resta in città non è che la città è proprio un mortorio, dai, parliamoci chiaramente, però naturalmente sono attività che si fanno anche uscendo nelle altre città, negli altri comuni. In estate ci sono attività che possono essere molto interessanti, anche non necessariamente legate, appunto, alla religione. La prima cosa che mi viene in mente, per esempio, è una notte di fiaba che c'è a Riva del Garda l'ultima settimana di agosto, dove abbiamo questo tema importante che è una delle fiabe ogni anno viene scelta una fiaba, c'è questo tema importante, i personaggi della fiaba, eccetera. la città si riempie di turisti, si riempie di bambini, c'è un sacco di attività, sicuramente molto interessante. E, come dicevo, sono dei vlog veloci, perché SUBITO vi chiedo ditemi un po' nella vostra città o nelle vostre vicinanze quali sono le attività che si possono fare magari in estate, proprio quando si finisce il lavoro, c'è il momento per la quiete. Ci sono delle attività turistiche? perché la vostra città è una città che accoglie il turismo? Oppure pensate che ci sia poco da vedere e c'è qualcosa che potrebbe essere fatto un po' meglio? Ci sono dei musei? Ci sono delle piscine, delle spiagge? Non lo so, parlatemene sui commenti. Ci sono delle attività folcloristiche, delle feste di santo o roba del genere? Dicevo, parlatemene sui commenti. Bene ragazzi, vlog del 2015, primo capitolo su Vivere la città, veloce e concluso, quindi se avete trovato questo vlog interessante, vi ricordo di fare pollice in alto e di condividerlo con gli amici, se non l'avete già fatto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, è gratuito, vi farà assumere quel buon profumo di nuovo iscritto e potreste ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Bene, ho concluso, per cui grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima! Grazie a tutti!